fratelli bianconeri non buon pomeriggio sera non appuntata della rubrica solo per tifosi doc oggi parliamo di un calzatore che non possiamo dire che ha segnato un'epoca perché sicuramente un'epoca non l'ha segnata però sicuramente è stato un giocatore conosciuto praticamente in tutto il mondo è un giocatore che pur non avendo passato tutta la sua carriera in bianconero juventina è comunque un giocatore che si è fatto sempre voler bene un uomo molto buono dentro e fuori dal campo un uomo soprattutto molto 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 corretto stiamo parlando del gigante buono john charles io è un altro di quei giocatori che appartengono ad un passato glorioso ma che non ho visto ovviamente mai giocare l'ha visto mio padre anche in questo caso e anche in questo caso mio padre mi parlò di questo giocatore lui l'ha visto giocare più di una volta e ne parlò sempre in un modo molto nostalgico nel senso che mio padre era molto estimatore di questo giocatore sicuramente più di omar sivori che anche sivori vedeva di buon grado però john charles rappresentava per mio padre un uomo come posso dire veramente vecchia maniera un uomo molto garbato un uomo molto cortese con tutti e quindi questo giocatore che ripeto sicuramente non ha segnato un'epoca però un giocatore alla juventus molto ricordato è morto credo un più di dieci anni fa se non ricordo male mi sembra non so se 2000 2004 2005 qualcosa del genere comunque poco più di dieci anni fa è stato un giocatore che è morto relativamente giovane aveva non so mi sembra poco più di 70 anni e e se vogliamo parlare del calciatore possiamo parlare di un giocatore che era soprannominato come detto il gigante buono nel perché il gigante buono perché questo calciatore era veramente di animo buono un giocatore un uomo veramente davvero veramente buono ed era buono anche in campo cinque anni alla juventus se non mi ricordo male e ha vinto scudetti ha vinto coppa italia e era un giocatore che non si è mai fatto ammonire non è mai stato espulso quindi credo che questo sia sicuramente un grande pregio perché questo significa sicuramente correttezza significa sicuramente rispetto dell'avversario perché mio padre mi diceva sempre era un giocatore che ne prendeva e ne dava ma non ha mai protestato mai detto una parola fuori posto un po quei classici giocatori che piacciono a demon che mi avrebbe fatto veramente molto piacere conoscere ma che purtroppo come detto era già un uomo molto grande quando io ero ancora troppo piccolo per capire ciò che invece avrei voluto capire ma in quei tempi ancora non c'ero diciamo così e parlare di di john charles è sempre difficile da un lato perché quando tu devi diciamo così parlare di giocatori che non hanno fatto parte dei tu del tuo tempo ma che però hanno sempre comunque incuriosito il tuo essere perché io sinceramente sono sempre sarei veramente stato veramente davvero molto curioso di conoscere quest'uomo veramente curioso perché sono convinto che avrebbe potuto innanzitutto raccontare tanti aneddoti come questo tanti altri avrebbero potuto farlo o potrebbero farlo però sicuramente john charles ha un piccolo alune come posso dire di mistero in sé che si porta dietro c'è un giocatore che ha sempre parlato poco un giocatore che non è mai stato diciamo molto votato alle luci della ribalta c'è comunque un uomo che sapeva farsi come si dice dalle parti di casa mia gli affari suoi famoso è l'aneddoto questo credo che lo conosciate tutti o perlomeno quasi tutti l'aneddoto di quando prese a schiaffi Omar Sivori in campo gli diede uno schiaffo ci devono essere anche dei video in rete credo di questo di quando john charles prese a schiaffi cioè non prese a schiaffi gli diede uno schiaffo a Omar Sivori e Omar Sivori stette in silenzio non replicò nulla mio padre mi disse che questo aneddoto era perché Omar Sivori aveva protestato troppo in una partita non so se fosse vero questo però mi ricordo che ci deve essere devo aver visto un video che fa riferimento a questo di uno schiaffo appunto dato da John Charles a Omar Sivori non so se è questa è la motivazione però sicuramente diciamo questa scena sicuramente fa anche capire che era un uomo buono però della serie non mi pestare i calli ecco tanto per capirci e dal momento che come me penso molti di voi non lo ricordino bene perché io fondamentalmente Charles non l'ho mai visto ho visto qualche video su di lui ma niente di più credo che sarebbe anche questo un altro di quei giocatori da andare a scoprire da farsi un excursus voi sapete che io parlo di un po di tutti i calciatori pur non avendoli conosciuti perché mi piace farlo perché mi piace questa rubrica però è chiaro che parlare poi di calciatori che non hanno segnato la tua epoca di vita è sempre molto difficile perché non conosci la storia non conosci la vita non conosci io se non mi ricordo male una volta mio padre mi raccontò che mi sembra che finito di giocare al calcio non so se ha aperto un buono sono entrato nel commercio qualcosa del genere se aveva aperto un locale non so però voglio dire sono tanti i calciatori che quando smettono di giocare non continuano nel calcio ma credo comunque che 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 Charles abbia fatto qualcos'altro lasciato il calcio non so se ha fatto il dirigente se vado il calciatore questo non il allenatore questo non lo so però so che per un periodo credo che abbia continuato nel calcio detto questo lo voglio ricordare simpaticamente perché veramente era soprannominato il gigante buono proprio perché era un uomo veramente buono di cuore e quando queste cose me lo dice me le diceva mio padre che mio padre come vi ho sempre detto è stato uno juventino verace verace forse non feroce come me ma sicuramente verace mio padre ha anche conosciuto giocatori della juventus quindi quando me ne parlava di certi di certi calciatori sicuramente so che diceva le verità e le diceva dal cuore e sicuramente di john Charles ne ha sempre parlato in un modo entusiastico perché perché lui amava Charles lo amava veramente le caratteristiche di quel di questo calciatore erano il colpo di testa era un giocatore dotato di una forza fisica impressionante se gli davi 10 centimetri ragazzi era era un fulmine di guerra lui di testa ti castigava a quanto risulta non è mai stato forse un mostro di tecnica però sicuramente ragazzi il colpo di testa che era la sua diciamo bocca da fuoco no nel senso che lui di testa era veramente fenomenale cioè se tu gli davi 10 centimetri lui ti castigava di testa non c'erano storie fortissimo non so quanti gol abbia fatto e a quanto so però credo sia stato uno dei giocatori all'epoca più ca più cari da comprare perché mio padre mi raccontava che è stato pagato una cifra folle dalla juventus per portarlo a torino e a quei tempi ovviamente oggi sono cifre che fanno ridere ma all'epoca dice che costò una barca di soldi per portarlo qua e questo gigante sicuramente ha ripagato ampiamente con oltre 100 presenze nella juventus insomma ha ripagato ampiamente la juventus di quella spesa fatta infatti tutti sanno che il trio Boniperti Charles Sivori è stato uno dei tri più belli che il mondo del calcio possa ricordare uno l'abbiamo già presentato il grande Giampiero Boniperti un altro oggi è Sivori scusate Charles e da qui a breve faremo ovviamente anche un piccolo escursus su Omar Sivori detto questo per il momento vi lascio andatevi a documentare anche su Charles ovviamente perché io come dico sempre questi video li faccio non tanto per i più attempati perché noi bene o male dai o c'è chi è anche più anziano di me che magari se lo ricorda magari l'avrà visto giocare ma sicuramente quelli più giovani sarebbe bello che andassero a documentarsi su questo giocatore perché veramente sono stati giocatori che sono appartenuti a un altro calcio ma che però sicuramente hanno lasciato dei segni importanti perché ripeto Charles chi è che non l'ha sentito nominare chi è che non ha visto magari un video di John Charles penso bene o male un po' tutti forse voi un po' più giovani non lo conoscete andatelo a vedere perché anche qui ragazzi parliamo di un goleador come pochi che ha fatto veramente tantissimi gol dovunque stato tra l'altro credo se non mi ricordo male che abbia giocato anche in un'altra squadra italiana mi pare sia la Roma mi sembra la Roma che abbia giocato nella Roma mi sembra e non vorrei dire una cosa mi sembra che abbia giocato anche nella Roma e quindi è un giocatore che documentarsi è una bella cosa e quindi oggi abbiamo voluto ricordare John Charles campione da altri tempi ma che la Juventus non ha dimenticato e che non dimenticherà ciao a tutti